Il lavoro a maglia è in pratica un sistema binario, qualsiasi progetto dal più semplice al più avventuroso è il risultato di una combinazione fra due punti diritto e rovescio. Una volta che abbiamo imparato questi due punti possiamo poi realizzare qualsiasi cosa. Svegliamoci perché il nostro paese ha vissuto un lungo sogno. Per fare il diritto infilo il ferro destro nel mio punto. Legalità è senso della comunità, è un qualcosa che ha molto a che fare con il noi. Passo il filo sopra il ferro destro e in pratica faccio scendere il punto. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Come fare il rovescio? L'uomo giusto non si deve girare dall'altra parte e questo vale anche di fronte alle leggi. La differenza rispetto al diritto è che il filo lo devo portare sopra il ferro destro. Ha messo dei giovani, dei giovani a lavorare sui beni confiscati per rendere i beni confiscati produttivi. E infilerò il ferro destro sul rovescio. Mi rendete conto nella nostra società individualistica, tutta basata su cose fittizie, che cosa vuol dire questo messaggio? È il vero messaggio rivoluzionario della società civile e può provenire solo dalla società civile. Il vero messaggio rivoluzionario della società civile e può provenire solo dalla società civile. Il vero messaggio rivoluzionario della società civile e può provenire solo dalla società civile. Con i punti che abbiamo appena imparato possiamo già realizzare per esempio Grazie a tutti.